Una vittoria a Casalinga, il giusto coronamento di una stagione fantastica e di una salvezza ottenuta con due partite d'anticipo. Una vittoria che vuol dire Serie A, ma non è oggi, perché oggi era solo il giorno della festa, abbiamo dimostrato che nonostante la salvezza fosse già stata conquistata la partita scorsa, volevamo onorare il campionato per rispetto anche degli avversari. Era giusto festeggiare qui a Lauria ed era giusto festeggiare in questo palazzetto pieno fino all'inverosimile, grazie al nostro pubblico che è stato fantastico. Un applauso a tutti e a tutti i giocatori. Con due giornate d'anticipo abbiamo concluso. Una vittoria che arriva da un gruppo fantastico ma anche da una dirigenza fantastica. Ma le vittorie non si costruiscono così per caso. Le nostre hanno un sapore speciale perché sono costruite sulla base dell'amicizia di un gruppo fantastico che si muove, si muove insieme. Non esistono gradi di nessuna gerarchia, esiste solamente un gruppo che ha dimostrato fuori dal campo e nel campo di valere la Serie A. Un grazie a tutti, di cuore. Grazie. Grazie a tutti.